Assegnati oltre 17 milioni di euro a valere sul Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e per la Pesca, la struttura di progetto attuazione della politica europea per gli Affari Marittimi, Pesca e Acqua Cultura del Dipartimento Agricoltura della Regione Puglia, ha approvato la graduatoria del primo bando della misura di avviso pubblico destinata a dare un sostegno concreto agli operatori della Pesca. Il primo stanziamento è di 4 milioni di euro. I fondi saranno erogati a partire da gennaio 2024 a 390 beneficiari. Con i 2 milioni di euro di economie rinvenienti da primo avviso, è stato pubblicato nel mese di dicembre un secondo bando che consentirà ad altri 50 beneficiari di accedere a questo tipo di sostegno straordinario. I pescatori delle marinerie pugliesi hanno dovuto documentare i fini del riconoscimento del ristoro e attraverso una procedura totalmente informatizzata il periodo di inattività e di difficoltà economico compreso tra il 24 febbraio 2022 e il 31 dicembre 2022 correrato a conflitto ancora oggi in corso.